Grazie a tutti. La città, ovviamente non il cittadino comune, vuole fare la coalizione per battere Bitonci e proprio l'opposizione dice che Massimo Bitonci ha investito poco, ha letto sui giornali per quanto riguarda il sociale, sulle cucine popolari, mi racconti un po' invece quello che ha fatto? Anche sempre i discorsi generici, bisogna parlare di dati, i dati di bilancio da 2014, 2015, 2016 sono estremamente chiari, noi abbiamo fatto di più e abbiamo investito di più rispetto alle precedenti amministrazioni. Ma dico solamente un dato per chi ci ascolta, mentre prima negli anni passati c'è stato il tema del panino, della mensa e della mensa soprattutto per quanto riguarda i bambini, insomma, quindi la scuola di infanzia e gli asili nido, noi abbiamo fatto una scelta molto importante. Io sono andato a vedere il contenzioso che c'era in atto come amministrazione comunale perché molte persone non pagavano e così dove fare un sindaco serio. Sono andato a capire il perché alcune persone non pagavano, ovviamente ci sono anche i furbetti, ma tante persone non pagavano perché avevano un reddito di sussistenza oppure reddito zero. Quindi una decisione che abbiamo preso e che abbiamo deliberato, che è già operativa per tutte le famiglie dei padovani, è quella che da zero a 4.000 euro di ISE le famiglie non pagano più la mensa per i bambini. Vi ricordate la vecchia polemica dei bambini che non hanno ricevuto i pasti a scuola, cosa direi vergognosa, fatta da assessori di sinistra a Padova, in cui si diceva no, non diamo il pranzo però diamo il panino e così. Secondo me i bambini non si vieta mai un pasto e non si fa mai la differenza. E allora ai signori di sinistra che adesso parlano devono raccontare alla gente che loro per anni hanno impiegato le risorse per esempio 500.000 euro all'anno per l'accompagnamento dei nomadi a scuola di Via Bassette che non andavano a scuola. Perché dopo abbiamo fatto un report, siamo andati a vedere, abbiamo detto ma come si spende mezzo milione all'anno per l'accompagnamento e poi non vanno a scuola, quindi abbiamo cancellato delle spese. Il tema dei mediatori culturali. Quando abbiamo scoperto che i mediatori culturali servivano per i genitori e non servivano per i bambini, abbiamo capito che era meglio fare il corso italiano. Perché penso che un cittadino che viene qui da noi dovrà dopo un periodo di tempo imparare 4ache di italiano o dobbiamo portare i traduttori a scuola. Non funziona così dalle altre parti. È logico che all'inizio bisogna dare una mano, ma dopo se uno vive qua, se i bambini vanno a scuola, deve imparare la nostra lingua. Ci sono alcune imbarazzanti anche cittadinanze fatte negli anni passati di persone che non riuscivano nemmeno a scrivere il proprio nome o non riuscivano a proferire due parole. Io penso che un straniero che viene qui da noi può essere ben accetto, se ha lavoro, se si integra, però deve capire anche un po' di tradizione, cultura e la lingua del paese che lo ospita. Non può pensare che ci sia sempre il mediatore culturale di turno di fianco. E sono tanti soldi. Quindi i soldi sono stati spostati. Quindi nessun taglio. Abbiamo preferito investirli in altre cose. Però, diciamolo francamente, voglio capire che cosa avevano fatto questi in passato. Cioè, i soldi erano distribuiti a pioggia attraverso associazioni e cooperative che non davano un servizio o un riscontro vero alla cittadinanza. E sono tanti soldi. Allora, se l'amministrazione nostra ha tagliato dei contributi, diciamo così, che abbiamo politici, a certe associazioni e li ha trasformati in alcuni servizi, passiamo al bando lavoro, la passata amministrazione aveva dato lavoro circa 30 persone in totale nell'arco del progetto lavoro. La nostra amministrazione in due anni e mezzo ha dato lavoro per sei mesi a 300 persone in difficoltà. E con il progetto lavoro fatto con la Cariparo e con la Caritas ha decine, ad altre decine e decine di persone che hanno trovato una solidarietà attraverso il lavoro. Quindi non un pagamento di una somma a pioggia, va bene, del contributo a pioggia della sinistra, del reddito di sussistenza in cui io non credo nel reddito di sussistenza. Bisogna dare lavoro alle persone, dando lavoro dai dignità alla persona. Quindi gli 800 euro, il 1000 euro di contributo, invece di darlo a fondo perduto, gli dici tu fai questo ma mi viene aprire la biblioteca, mi viene aprire il parchetto, mi fai un lavoretto, 300 persone impiegate, questo è il nostro modo di lavorare, altro che taglia sociale. Avete preso in giro la gente e continuate a prenderla in giro senza scrivere un dato o scrivendo dati falsi, vecchi, magari dei bilanci di previsione. Si prendono i bilanci consuntivi per i dati, avete capito? Purtroppo abbiamo degli analfabeti della politica dall'altra parte che spiegano le cose e la fanno in maniera volontaria. Le cucine popolari. Sono i giornalisti che scrivono o l'opposizione nel ragionamento? L'opprovazione dà dei dati, va bene, e i giornalisti scrivono alcuni giornalisti, perché ci sono giornalisti seri che, senza verificare. Io se fossi stato un giornalista di un noto quotidiano, che mi passa all'opposizione un'intervista, o come hanno fatto sempre con me, dove hanno verificato tutte le notizie che io davo, e avessi detto 30 milioni di buco del comune. Eh no, pian. Allora, Pinco Pallo, del PD, dice che sono 30 milioni del comune. Abbiamo sentito il segretario d'Italia Comunale, che dicono che il buco non c'è. Quindi il buco non c'è, il PD dice che sono 30 milioni. Invece la notizia si dà 30 milioni di buco sull'ultima riga, magari, perché sappiamo benissimo che la gente magari legge il titolo, sottotitolo e le prime righe, ma non insegno niente, perché questo è il modo di operare di certe persone, e anche sul sociale è così, no? Tagli di qua, tagli di là, oppure non avete contribuito per una determinata associazione. Dopo si va a vedere, ma l'associazione non dava un servizio al cittadino, va bene? Ed era una marchetta politica, diciamolo francamente, ci sono state date tante marchette politiche che sono state cancellate. Però la messa gratuita a tutti gli italiani, l'avete data voi? No. L'ho interrotto a me. Certi servizi gratuiti ai padovani che abbiamo dato noi? No. Lavoro a decine e decine, centinaia di padovani in difficoltà, l'avete dato? No. Le case popolari ai padovani le avete date? Noi con la modifica del regolamento abbiamo fatto noi cose più di sinistra di quelli della sinistra. Le case popolari ai padovani, l'avete date? Però ho avuto anche la critica. 95% di assegnazioni. Prima davano il 50% di assegnazioni a stranieri e il 50% ai padovani. È stato criticato però che quando ha liberato il via Bassette, non vorrei sbagliare, quelli che abitavano lì, che vivevano lì, ha dato degli appartamenti. Ho già spiegato più volte. Allora, il problema fondamentale, principale di Mortise era via Bassette. Va bene. 120, un insediamento abusivo, non autorizzato, abusivo e con 120 nomadi, bambini in condizioni disastrose. Per un lungo periodo di tempo hanno continuato a dirmi e Bassette, risolviamo il problema di Bassette. Ho preso in mano io la situazione, perché purtroppo qualcuno non voleva risolvere la situazione. Ho preso in mano la situazione. Abbiamo deciso di smantellarlo ed è il primo campo abusivo smantellato a Padova. È l'unico, perché non ce ne sono altri di abusivi. Gli altri sono tutti campi via Longhi. È un campo regolare e l'autorizzazione l'abbiamo dato a noi. L'ha dato la precedente amministrazione. Gli altri insediamenti, va bene, con le casette, sono regolari, non sono abusivi, di gente che si è rinserita anche in un contesto. L'unico campo abusivo, l'abbiamo cancellato noi con le ruspe, va bene, è stato in quelli via Bassetti. C'erano dei minori. Sui minori abbiamo fatto una scelta ben precisa, ma una scelta condivisa anche, in cui abbiamo dato alcune abitazioni attraverso associazioni che seguono i nomadi e quindi non noi direttamente, ma alcune associazioni che finalmente hanno preso in carico queste persone e alcune famiglie, non tutti quanti i 120, perché la maggior parte sono andati via, sono andati in altre zone, hanno preso il loro caravan e sono andati via da via Bassetti. Sono andati in alcune abitazioni distribuite in giro, ma alcune rispetto ai 120, alcune. Io penso che abbiamo sistemato una situazione dignitosa che era un grave problema per Mortise e per la città. L'ho interrotta prima mentre si aveva parlato delle cucine popolari. Le cucine popolari. È venuto fuori una polemica assurda quando un anno e mezzo fa io ho detto, era scritto nel problema elettorale, lo ripeto anche oggi, le cucine popolari creano un grave disagio in stazione a Padova. Allora, io anche a suo tempo ho ringraziato del lavoro su Orlia. Chi è che non l'ha ringraziata? Falsi e bugiardi coloro che dicono che io ho offeso su Orlia. Falsi e bugiardi. Io non ho mai offeso nessuno. Ho detto che la cosa andava regolamentata. Dopo, se fa comodo dire che Bitonci dice che la cosa delle cucine popolari va regolamentata, vuol dire che ho offeso su Orlia, continuate a dirlo perché io poi non l'ho detto. Io ho detto e l'ho ripetuto anche a padre Vescovo, padre Claudio, che la pensa come me, che questo sistema va regolamentato e che dove lui era Vescovo prima a Mantova, l'accesso alle cucine popolari avveniva attraverso la registrazione. Cosa c'è di male nel registrare le persone e nel sapere cosa fanno? E allora la polemica di ieri, che il candidato va a fare il giro alle cucine popolari e dice Bitonci ha offeso su Orlia, potenzieremo le cucine popolari. Io invece no, continuo a ridire quello che penso. Cioè che le cucine popolari vanno controllate, che devono essere scritte su registro alle persone che vanno all'interno e continuerò a dire questo, che al limite, se troviamo un accordo con la Curia, visto che non siamo noi i gestori, possiamo trovare anche un'altra soluzione, magari lontano dalla stazione, che è un luogo dove si concentrano queste persone, purtroppo. Magari troviamolo in un'altra zona, un po' più delicata, un po' meno delicata, un po' più controllata. E non capisco anche questa polemica sui cani. Cioè qualcuno che dice abbiamo mandato i cani. Guardate che noi non abbiamo, come Polizia Municipale di Padova, i Rottweiler che aggrediscono le persone. Abbiamo i cani antidroga, cioè cani normali antidroga, che sono in molti casi anche innocui, che il servizio che hanno fatto in zona stazione e vicino alle cucine popolari è contro gli spacciatori drogati che vanno alle cucine popolari. Non nascondiamoci dietro un dito. Cioè non è che vanno solo persone bisognose, anche italiani. Vanno tanti delinquenti dentro. Io so lì, l'ho detto in maniera educata e decente, va bene, che vanno controllate queste persone. Non si può andare a mangiare agli spacciatori che dopo escono con la pancia piena e continuano a spacciare mani anche all'interno delle cucine popolari. Basta con questo buonismo e raccontando. Ascoltate le persone che vivono attorno alle cucine popolari, che vivono ogni giorno questo problema. Quindi io non cambierò idea. Non mi fate cambiare idea. Continuerò a dire quello che penso. Ed è assurdo e ridicolo che qualcuno del PD, che candidato del PD, vada a dire che noi abbiamo offeso. Non abbiamo offeso nessuno. Anzi, possiamo dire che ordine, legalità, sicurezza e controllo. Questo vogliamo fare per la città. Senta, Bitonci, due, un tema e mezzo, dico, perché uno è importante e l'altro sì, ma reputo personalmente molto meno. Indico nei due temi l'ospedale e lo stadio in previscitto. Mi soffermo sull'ospedale. Le voglio fare una domanda chiarificatrice. A Padova lei ha cambiato sito per dove costruire il nuovo ospedale, però sta di fatto che sono vent'anni che si parla di questo ospedale e non si è mai posato veramente la prima pietra. In tutte le altre città del Veneto questo invece è stato fatto. O nuovo sul vecchio, o nuovo sul nuovo, come quella vuole. Ma perché a Padova, adesso dopo due anni e mezzo di amministrazione di Padova, dovrebbe dirmelo, non ci si capisce nulla su questo ospedale e soprattutto non viene messa la prima pietra veramente? Racconto la barzelletta degli armari. Mi racconti la barzelletta però? Allora, io sono stato in regione appena eletto da colui che da vent'anni segue le delizie sanitarie in Veneto. Quando sono stato a trovarlo, l'architetto Canini, mi ha mostrato una serie di armadi. Allora, io lo racconto in giro perché sembra una barzelletta, questa roba qua, ma è la verità. Allora, abbiamo mostrato, vede il sindaco, perché l'ospedale di Padova non è stato fatto in tutti questi anni. Allora, questo è l'armadio dei progetti di 30 anni fa. Poi si sposta, mi fa nemmeno che è finita qua il sindaco. Questo è l'armadio dei progetti di 20 anni fa. Ma non è finita qua. Questo è l'armadio dei progetti dell'ospedale di Padova di 10 anni fa. E questo, un altro armadio, e questo è l'armadio dell'ultimo progetti financing su Padova a Ovest. Va bene? Su cui non ci sono i terreni e non c'è assolutamente nulla. Allora, addebitare una responsabilità a un sindaco che aveva ornato due anni e mezzo sugli ultimi 30 anni a Padova mi pare veramente una presa in giro non solo di chi ci ascolta, ma di tutti i padovani. Anzi, noi siamo stati quelli che in due anni e mezzo hanno sbloccato la situazione. Perché a Padova a Ovest non c'era il terreno. Il terreno era proprietà di privati. Non c'era viabilità. Non c'erano espropri. Non c'erano lavori fatti sulla questione del dissesto ideologico dell'area. Quindi abbiamo fatto una campagna dottorale dicendo il sito non va bene perché non ci sono neppure i soldi, i 100 milioni sufficienti per fargli espropri e per fargli lavori così. Portiamo, facciamo un progetto di nuovo su vecchio. E io mi sono battuto come un leone per 6-7 mesi, quasi un anno per portare la regione e l'università nell'area di via Giustiniani. Ma nei momenti in cui la regione sta negli atti perché chi ci ascolta e chi fa delle polemiche ridicole come anche il PD che dice che si può adesso fare il nuovo su vecchio quando mi ha contrastato per due anni e mezzo dicendo cose completamente contrari che bisogna ritornare a Padova Ovest. Va a guardare il sito della regione dove ci sono tutti i verbali. Andate a guardarvi, a leggervi i verbali degli ultimi due anni e mezzo degli incontri fatti di regione, della documentazione e quando l'avete letto, chi ha letto e aveva dei dubbi mi ha detto Massimo ma io non so come è fatto a sopportare per due anni e mezzo questi o chi insomma ti ha contrastato ma che è una cosa incredibile perché è tutto scritto c'è scritto tutti i passaggi quando io ho presentato la proposta planivolumetrica del nuovo su vecchio su via Giustiniani cioè in centro della città mi hanno detto di no ma chi è che mi ha detto di no? Mi ha detto di no l'azienda, l'università e la regione tutti quanti e tutti quelli che erano al tavolo e a quel punto cosa fa un sindaco? Si incappona, visto che è un brutto carattere votatemi per il carattere ecco dico stasera visto che è un brutto carattere dovevo incapponirmi nel dire non si fa più niente perché io voglio in centro storico e la regione, l'università è negli atti è negli atti è stata l'università a chiedere 500 mila metri quadri per realizzare il campus e l'ospedale e allora un sindaco cosa fa? Guardare nelle disponibilità che ha se c'è quella metratura l'unica disponibilità che avevamo era a Padova Est dove doveva nascere una grande struttura ma sì perché era vicino e allora abbiamo detto vicino ma quando l'ho detto è troppo piccolo anche questo abbiamo un'unica area a Padova Est vicino al casello quindi una zona anche abbastanza diciamo strategica con la viabilità già fatta dove doveva andare una grande struttura di vendita abbiamo detto no alla grande struttura di vendita all'Heroa Merlin diciamo francamente la domanda che l'ha già depositata e quindi abbiamo detto no alla grande struttura di vendita mettiamo a disposizione questi 350 mila metri è stato chiesto di arrivare ai 500 mila e qui con una vecchia urbanizzazione non approvata da noi anche là tutto lo schema i privati perché tanto io ho parlato solamente con le banche che erano proprietari in realtà dell'area con questa realtà adiacente con umbilizzazione in stato di liquidazione che doveva nascere anni fa e non è mai nata abbiamo detto modificate la proposta e i terreni che dovete cedere al comune li mettete adiacenti all'area ospedaliera così arriviamo ai 500 mila metri abbiamo lavorato per questo preparata la proposta depositata la proposta approvato il piano siamo arrivati ad approvare tutto a mettere sul tavolo i 500 mila metri a finire la scrittura dell'accordo di programma punto per punto dove davamo gratuitamente i 500 mila metri per fare l'ospedale quindi voleva dire si parte con un nuovo ospedale e l'11 novembre una settimana la firma dell'accordo di programma mi hanno mandato a casa capite che se firmavamo l'accordo di programma non c'era storia che teneva quindi io lo dico e lo ripeto nel programma elettorale c'è scritto che io firmerò l'accordo di programma il giorno dopo che diventerò sindaco e questo vuol dire dare via libera al nuovo polo della sanità di Padova un progetto di carattere europeo non di carattere solo padovano mentre nell'area di Viglio Stignani rimarrà il Sant'Antonio cioè il Sant'Antonio andrà dall'attuale sede di Via Facciolati quindi liberiamo anche la sede di Via Facciolati andrà dove attualmente c'è il policlinico e quindi verranno sistemate abbattute tutta l'area dove ci sono le cliniche che è l'area più faticiente e verranno mantenuti gli edifici nuovi dove andrà quindi i padovani avranno comunque l'ospedale padovano questo è il progetto per Padova che sarà nel programma elettorale ma è quello realizzabile ma non realizzabile chissà quando il giorno dopo se potessi la firmerai adesso in fiducia l'accordo di programma magari lo firmerò davanti agli elettori in fiducia dicendo votatemi perché il giorno dopo firmo l'accordo di programma perché vedrete che questo commissario non firmerà l'accordo di programma non lo firmerà l'hanno mandato via apposta a quello precedente l'hanno dopo due mesi e mezzo che aveva detto che firmava l'accordo di programma e si era studiato le carte leggete quello che hanno scritto lui ha dichiarato le carte sono a posto sono a posto firmerò l'accordo di programma appena avrò i poteri straordinari l'hanno mandato via prima e vedete che questo commissario non firmerà ma fra tre mesi fra tre mesi il primo atto che farà il sindaco di Padova Massimo Bitonci firmerà l'accordo di programma con Rizzuto con il professor Rizzuto e con il governatore Luca Zaia adesso mi può dire perché in questi due anni e mezzo che lei è stato sindaco ha capito perché a Padova non è stato costruito questo benedetto ospedale ci sono cinque armadietti con cinque progetti lei ha spiegato tutto lo firmerà quando diventerà sindaco ma perché finora a Padova perché non c'era il terreno no la voce ci sono troppi interessi c'è chi ci vuole c'era un project c'era un project financing pesantissimo dall'altra parte vent'anni cioè su Padova c'era un project financing da 800 milioni privato il progetto nostro e della regione è pubblico è per quello che è incredibile parlare di su Padova est i terreni sono pubblici anche quelli ceduti da questa parte sono pubblici parliamo parliamo di un progetto privato dall'altra parte il project financing chi ci ascolta lo sa benissimo è un progetto privato privati che realizzano un ospedale a un prezzo prefissato e dopo scaricano i costi sulla comunità l'ha spiegato benissimo la domanda io le faccio che è ben diversa si tolga un attimino dalla veste di sindaco e di futuro sindaco ma da zero un sindaco di Padova perché era anno zero in due anni e mezzo porta a casa i terreni e l'accordo di programma è un miracolo secondo me non fa una grincia però lei si mette nel piano i 30 anni prima le mettiamo in conto a Zanonato alla Giustina Destro a tutti gli altri a Goppardo a Ivorossi per un pezzettino ecco la domanda mia mi mettiamo in carico a loro mi è in carico a me vorrei capire di più lei si tolga un attimo dalla veste lei è un cittadino padovano e si accorge che a Padova se bisogna dell'ospedale non viene costruito e passano tanti sindaci tutti lo promettono anche lei era riuscito nell'intento poi purtroppo è stato mandato via per questo motivo il commissario non lo firma per quell'altro motivo però il vero dato di fatto è che qui a Padova questo maledetto o benedetto come lo vuole chiamare ospedale non viene mai io penso che l'unico che si è impegnato seriamente è stato lei realizzato sono io è stato lei e posso dire anche un altro esempio ma la domanda del cittadino mi scusi se l'entero la domanda del cittadino è ma porca miseria perché questo ospedale non viene costruito che interessi ci sono sotto, sopra di metto dove vuole perché questo ospedale in tutte le altre città viene fatto e qui che c'è un'eccellenza della sanità non viene costruito se è fatta è riuscito a capire perché perché per la prima volta e devo dare il merito al professor Rizzuto Salino Rizzuto con cui ho avuto un rapporto quasi quotidiano su molti temi della città dagli impianti del CUS alle aule universitarie quindi il rapporto del sindaco con le università era ottimo nonostante quello che dice una parte perché è stato il primo rispetto al rettore precedente che ha detto a tutti quanti a me non interessa dove deve essere fatto l'ospedale basta che facciamo l'ospedale ci volevano 30 anni per dire una cosa del genere invece prima qualcuno continuava a dire bisogna farlo qua bisogna farlo di là bisogna ristrutturare di qua bisogna l'attore di qua bisogna perché qualcuno voleva dire anche dove andava collocato l'ospedale invece l'università per la prima volta nella storia un anno e mezzo fa ha detto pubblicamente nella riunione in regione attraverso il rettore e attraverso i presidi della scuola della scuola di medicina ha detto a noi non ci frega un tubo dove volete farlo l'importante è un'altra cosa a noi interessa invece cosa che invece non siamo stati invece consultati il contenuto quindi che sia chiaro l'università mette il contenuto il comune mette il terreno la regione mette tutto il resto i schei e il coso quindi questo era l'accordo bruciato una settimana prima della fine tanto che mi risulta che anche il rettore abbia portato in consiglio di amministrazione la bozza di accordo di programma questo è importantissimo per far capire la bontà a chi ci segue perché uno potrebbe dire ma Bitonci e Zaia si sono fatti l'accordo per contro loro se lo sono fatto scritto e così ma i soggetti non è che c'è solo Bitonci e Zaia c'è Bitonci e Zaia c'è l'università l'università più importante d'Italia quindi se anche l'università dice eh no l'accordo mi va bene noi smettiamo i contenuti il terreno lo mette l'amministrazione i soldi li mette il campus lo faremo questo era scritto nell'accordo di programma il problema è risolto fra tre mesi l'ospedale ci sarà se i padovani vogliono l'ospedale ci sarà io sono pronto anzi sono pronto di filmarlo prima ecco in modo che l'accordo sia si faccia senta Massimo Bitonci proprio nella zona dell'ospedale dove dovrebbe essere costruito un ospedale ci sono due appezzamenti abbastanza vicini di terreno dove dovrebbero sorgere dei centri commerciali questi cerco di fare un po' il riassunto di quello che succede a Pado in questi due siti dove dovrebbero essere costruiti dei centri commerciali che hanno stata date la licenza dalla prima dalla giustina destro poi confermata dall'amministrazione di Flavio Zanonato arriva Massimo Bitonci e blocca queste licenze la domanda che le faccio il comune nel bloccare queste licenze dovrà pagare una penale per gli errori dei precedenti sindaci oppure no cosa succederà se Massimo Bitonci ritornerà su sindaco in quei due appezzamenti dove le vecchie amministrazioni hanno dato la licenza per poter costruire dei centri commerciali per quanto riguarda l'area dell'ospedale cioè quella chiamiamola dove c'era la domanda delle l'Erua Merlin no perché quella era un'area pubblica e quindi il comune lo può disporre anche se c'era già la domanda già fino nel momento in cui tu anche se questi non fanno la richiesta si è evitato disponibilità ricordiamo quali due pezzi sono quello del Roi Marlin era l'area di Padova Est dove adesso va all'ospedale poi c'è tutta quanto un'area che è di proprietà Aspiag Despar ritorna sempre questa cosa dell'Aspiag Despar dove attualmente loro hanno una concessione per realizzare una struttura di tipo non alimentare alimentare e mi avevano chiesto di trasformarla in zona alimentare io ho detto di no perché io sono stato il primo sindaco che non ha fatto un nuovo piano commerciale anche qua i ricorsi al TAR ho fatto una mera ricognizione dello Stato delle licenze avevamo 20 richieste e abbiamo dato parere negativo su tutte 20 tutte quante ci sono delle licenze di grandi strutture di vendita su area comunale su alcune zone degradate della città ma che erano presenti anche in precedenza quindi il nuovo piano commerciale come qualcuno l'ha chiamato non era che una mera ricognizione dello Stato attuale perché io sono contrario alle nuove strutture di vendita sono contrario anche a modificare la destinazione della zona industriale io non credo come ha detto qualche candidato che la zona industriale deve essere riconvertita bisogna portare il commerciale bisogna portare le grandi strutture assolutamente per me la zona industriale deve rimanere la propria vocazione di area del manufatturiero e l'area industriale per eccellenza di Padova artigianale anche commerciale ma non area per grandi strutture di vendita area per il commercio all'ingrosso non al dettaglio è una cosa completamente diversa quindi diciamo che ma soprattutto ci fa tre mesi non farà costruire non farò costruire nuove strutture di vendita sicuro quel laghetto vicino al Ponte Darvin verrà tolto rimane sempre un laghetto allora il laghetto in realtà non è un laghetto sì beh è chiaro quella è una lo stesso struttura di vendita ho semplificato licenza data ad un'amministrazione a una ditta che che aveva iniziato i lavori e dopo come è successo spesso a Padova è tutto saltato però questi detengono già un'autorizzazione anche all'edificazione hanno realizzato una soletta hanno scavato e realizzato una soletta e quindi questa rendendo impermeabile quindi la buca e la buca si è riempita d'acqua per quello viene chiamato il laghetto io spero che un domani la ditta magari passando di mano riprenda i lavori venga prosciugata l'acqua e sorga quello che doveva l'unica soluzione è quella perché per sistemare quel tema quel problema almeno togliere l'acqua almeno togliere l'acqua però è privato è tutto privato non c'è niente di pubblico ma il comune può dire sì è vostro però almeno togliete l'acqua insomma per il cielo certo però là c'è un contenzioso in corso e c'è una situazione chiamiamo di carattere giudiziale in corso con il tribunale e quindi bisogna attendere il tribunale quello che decide l'assegnazione a dei nuovi soci a dei nuovi proprietari andiamo in pubblicità perché un goccetto d'acqua ne ha bisogno sì ci vuole ci vuole un goccetto d'acqua per la gola piuttosto poi parleremo dell'ultima parte ritorneremo a parlare ovviamente del plebiscito e anche della sicurezza per concludere questa puntata tra poco grazie a tutti